Ci sarebbe un video nelle mani degli investigatori che conterrebbe le immagini dei momenti immediatamente precedenti e successivi all'omicidio del commerciante di autoricambi Salvatore Nicosia, ucciso lunedì mattina nella sua attività sulla provinciale Vittoria, Santa Croce e Camerina. Il video sarebbe stato ripreso da una telecamera privata ad una certa distanza dal luogo dell'omicidio e mostrerebbe due individui appostarsi nelle vicinanze dell'attività in attesa della vittima arrivata intorno alle 9. I killer hanno atteso che Nicosia aprisse le saracinesche e si sono diretti verso il negozio. Le riprese poi mostrano gli individui allontanarsi con un furgone Mercedes Vito di colore bianco in direzione Scoglitti. Il mezzo sarà poi ritrovato nel tado pomeriggio di lunedì nelle campagne di Contrada Resinè. La qualità delle immagini però non sarebbe tale da consentire agli inquirenti di identificare le due figure che restano al momento sconosciute. La scientifica sta mettendo in atto tutto quanto la tecnologia è in grado di fornire per scandagliare ogni singolo frame del video e cercare di trovare elementi utili alle indagini. I due assassini quindi si trovavano già sul posto prima dell'arrivo della vittima e conoscevano molto bene le sue abitudini. Come ormai noto l'omicidio è stato poi scoperto nella tarda mattinata da un cliente che ha notato il cadavere diverso in una pozza di sangue. Intanto il medico legale nominato dal sostituto procuratore Andrea Sodani titolare dell'inchiesta ha eseguito l'autopsia sul cadavere del commerciante. L'esame autoptico avrebbe confermato che ad uccidere Salvatore Nicosia sarebbero stati due colpi di fucile caricato a pallini. Il primo alla spalla destra e il secondo quello mortale al torace. Ulteriori elementi saranno trascritti nella relazione che entro 90 giorni sarà consegnata al magistrato.